Se avessi investito 1000 dollari in Solana al momento del suo lancio, in questo momento avresti avuto circa 900.000 dollari, considerando un valore attuale pari a 200 dollari. Se i stessi 1000 dollari li avessi investiti qualche anno prima su Ethereum, in questo momento invece avresti circa 2 milioni di dollari, considerando un prezzo di circa 3500 dollari per token ETH. Ma ad oggi, nel 2024-2025, conviene investire nelle private sale? In che modo? Quanto bisogna investire? Come funzionano? Non vi preoccupate, scopriremo tutto in questo video. Se questi contenuti vi sembrano interessanti, iscriviti al canale ed attiva la campanella. Se non mi conosci, ciao, sono Stefano Gabbianelli, conosciuto come il Marchese del Crypto su YouTube, quindi sei il benvenuto. Però mi raccomando, seleziona tutte quando attivi la campanella, altrimenti non ti arrivano le notifiche importanti di quando pubblico un nuovo video. Una pre-sale, lo dice la parola stessa, è in pratica una vendita di token prima del lancio stesso di questa criptovaluta. Queste pre-sale possono dividersi in diverse fasi. Queste fasi solitamente permettono al team, al progetto, di raccogliere i fondi necessari per poter continuare lo sviluppo oppure iniziarlo. Per prepararsi a lanciare la sua criptovaluta e analizzare il suo progetto, quindi prima che ci sia la possibilità di poterlo acquistare in modo semplice, o su exchange centralizzati o su DEX, i cosiddetti exchange decentralizzati. Ho appena detto che ci possono essere diversi round. Perché ci possono essere diversi round? Perché ci sono alcuni investitori che entrano prima e solitamente hanno dei vantaggi, quindi hanno un costo più basso, fino ad arrivare all'ultima fase che è la cosiddetta ICO, ossia Initial Coin Offering, che in pratica è l'ultimo step prima del lancio della criptovaluta stessa. Ma non è assolutamente detto, ci può essere chiaramente solo la SEO, ci può essere solamente la private sale, quindi la vendita privata, che assolutamente corrisponde anch'essa alla SEO, oppure ci possono essere appunto diversi round come la fase SID, la fase Angel, la private 1, la private 2, la SEO e così via. Ma qual è la vera opportunità di questo? È quello di acquistare naturalmente il token al prezzo più basso possibile, in modo tale da poterlo rivendere ad un prezzo più elevato in futuro e naturalmente quindi poter fare dei profit. Ma non è tutto rosa e fiori, ci sono ad esempio i cosiddetti periodi divesting, e che cos'è un periodo divesting? È un periodo nel quale i token solitamente vengono bloccati per un determinato periodo di tempo, nel quale questi token non possono essere venduti, quindi questi token ti verranno rilasciati man mano, ci sarà probabilmente una piccola porzione che sarà possibile vendere nella fase di lancio di questa criptovaluta, quindi al momento che sarà possibile scambiarla effettivamente su exchange piuttosto che su exchange decentralizzati, ma allo stesso tempo ci sarà un periodo più lungo nel quale questi token verranno man mano rilasciati. Questo perché viene fatto? Beh, viene fatto per tentare di mantenere il più possibile elevato il valore del token. E come in tutte le cose c'è una medaglia, e la medaglia è quella che ha due facce, ossia laddove è vero che non puoi vendere tutti i token, e quindi questo può sembrare un aspetto negativo, allo stesso tempo dall'altro lato invece questo viene fatto per mantenere un prezzo elevato. Questo perché? Perché per farti capire, qualora tu acquistassi un token ad un dollaro e il prezzo dovesse raggiungere i 10 dollari, se tu dovessi vendere tutti i tuoi token, quindi perché avessi ottenuto un profitto di 10 volte la cifra iniziale, significherebbe che naturalmente staresti fornendo fondamentalmente una grossa pressione di vendita. Se lo fai tu, così come lo fanno gli altri, ben presto il prezzo del token crollerebbe, quindi a quel punto non ci sarebbero più i profitti per nessuno. Un altro aspetto che bisogna tenere in considerazione è che quando si partecipa a queste vendite private, SEO, private sale, qualunque essa sia, solitamente, usualmente, il token non viene lanciato nell'immediato, quindi se effettua prima l'investimento c'è il periodo di raccolta, una finestra nel quale è possibile raccogliere questi fondi, e solo successivamente c'è questo famoso listing, quindi questa famosa possibilità di poter scambiare questi token sul exchange. Questo periodo può essere più o meno ampio in funzione del progetto nel quale si entra, in funzione del team di quando ha pensato di poter lanciare questa criptovaluta, e naturalmente rispetto alla fase nella quale si è entrati, quindi se si entra in una fase seed, quindi in una fase iniziale, in una fase angel, naturalmente si dovrà attendere di più rispetto a qualora si entrasse in una fase di SEO, anche se non è sempre così questo, diciamo, per la stragrande maggioranza delle volte. Ma come si può partecipare a queste pre-sale? Come abbiamo detto si può partecipare tramite exchange centralizzato, come ad esempio Pipeit, che ti consente di partecipare a diversi launchpad, quindi di poter avere un'allocazione o parte di allocazione di questi token prima della fase di lancio, anzi qua sotto in descrizione vi lascio il referral link se volete iscrivervi a Pipeit per avere inoltre lo sconto, ma allo stesso tempo è possibile partecipare tramite lotterie, è possibile partecipare tramite exchange decentralizzati, abbiamo diverse piattaforme come ad esempio Pink Sale, come ad esempio Token Soft, si può partecipare inoltre tramite venture capital, in pratica tramite azienda che si occupa dei contatti direttamente con questo progetto, si occupa di raccogliere fondi da diversi investitori e poi partecipa alla fase di pre-lancio con un quantitativo ingente di soldi. Oppure tramite il sito stesso del progetto, in maniera molto semplice, possono essere aperte a tutti, oppure possono richiedere una whitelist, ossia la possibilità di poter partecipare a questa pre-sale solo a determinati indirizzi di wallet, magari per aver completato alcune operazioni, per essersi iscritti per tempo, insomma ogni progetto ha le sue richieste. Bene, abbiamo già visto gli esempi di Ethereum e gli esempi di Solana, ne possiamo vedere altre, ad esempio il token di BNB, in questo caso di Binance, che era possibile acquistarlo a 10 centesimi di dollaro, in questo momento il suo attuale valore è poco inferiore ai 600 dollari, quindi pensate al ritorno immenso, qualora avevate deciso a suo tempo di investire le dollari, anche i 100 dollari, non vi sarebbe assolutamente andata male. Altri esempi, abbiamo Link, il token dice Link, sicuramente se nel primo video che vedi non avrai sicuramente già sentito parlare, beh, anche esso è uscito a 11 centesimi di dollaro e in questo momento si trova intorno ai 18 dollari, quindi come vediamo abbiamo dei ritorni possibili davvero grandiosi che possono davvero consentire di cambiare la vita con poche centinaia di dollari. Ma naturalmente ragazzi, tornando al discorso della medaglia, anche in questo caso c'è un'altra faccia. Alcuni progetti potrebbero non venire mai listati, sono i cosiddetti scam, i progetti truffa, i progetti che raccolgono fondi e poi non lanciano il loro token. Qualcuno in maniera volontaria, la maggior parte, qualcuno semplicemente perché non ha raggiunto magari il volume richiesto, oppure semplicemente perché il progetto ha fallito. Quindi parliamo naturalmente di una fase rischiosa. Abbiamo degli esempi importanti, ad esempio Prodeum, che è una criptovaluta che sarebbe dovuta essere utilizzata per la tracciabilità dell'agricoltura, della filiera agricola. Bene, ha raccolto diversi milioni di dollari e poi con una bella scritta che vedete qua in sovraimpressione al momento del lancio, ha deciso di chiudere i battenti, quindi chiunque avesse messo di dollari in quel progetto è rimasto completamente a bocca asciutta. E come questo esempio ne abbiamo tanti e tanti altri, abbiamo avuto tantissimi lanci di criptovaluta che non hanno mai visto luce, ma allo stesso tempo abbiamo avuto invece anche diversi progetti che hanno lanciato la criptovaluta, ma allo stesso tempo hanno perso di valore nell'immediato. Vuoi o non vuoi avere una serie di motivazioni, vuoi o non vuoi qualcuno in maniera malevola, vuoi o non vuoi qualcuno semplicemente perché non aveva le condizioni di mercato favori. Quindi adesso abbiamo un po' una panoramica generale di come funzionano le pre-sale, ma chi dovrebbe partecipare a queste pre-sale? Io direi che chi abbia esperienza in questo settore, non credo che come prima esperienza sia l'esperienza più semplice se non la migliore, perché naturalmente prima uno deve capire come funziona il settore delle criptovalute. Se non lo conosci puoi tranquillamente seguirmi e sicuramente avrai una panoramica ampia per quanto riguarda il settore delle criptovalute, ma puoi anche naturalmente cercare altri youtuber piuttosto che navigare su internet, ma ti consiglio come prima cosa di capire cosa sono le criptovalute e di partire con degli investimenti naturalmente cosiddetti tradizionali su exchange, piuttosto che un po' dopo passare su exchange decentralizzati con la classica detenzione prima di arrivare a partecipare alle prese. Quindi dovrebbero partecipare, a mio modo di vedere, solo le persone schillate che sanno quello che fanno e che sanno a quali rischi devono andare incontro. Quindi, in conclusione, come sarebbe giusto consigliare le prese, conviene ancora investire in prese? Bene, allora vi parlo semplicemente per esperienza personale perché purtroppo non ho una statistica generale perché in realtà è impossibile fondamentalmente da eseguire, viste i tantissimi lanci che ci sono le diverse modalità. Quindi, insomma, non credo ci sia una statistica aggiornata riguardo questo aspetto. Quello che posso dirti però è che sicuramente una prese è una sorta di gratta e vinci e come tale va considerato. È una sorta di investimento molto, molto rischioso. Già le crypto sono rischiose, naturalmente le prese, le private, le SEO, qualsiasi che essa sia, si aggiunge in un lato altamente speculativo e come tale quindi altamente rischioso. È vero, può farti arricchire così come è vero che può farti perdere tutto. Io personalmente come le vedo? Che opinione ho riguardo le prese? Io ho un'opinione relativamente favorevole alle prese, ma so naturalmente come approcciarmi oltre che sto in questo settore da diversi anni. Io ad esempio personalmente ho deciso di allocare una porzione del mio portafoglio, nel mio caso il 5%, che sono disposto a perdere, fermo restando che sono disposto a perdere tutto l'investimento di criptovalute perché sappiamo che altamente è speculativo, ma in questo caso diamo un rischio addirittura maggiore rispetto già al classico rischio intrinseco delle criptovalute. È una cifra quindi che sono in cui si è disposto a perdere e questo 5%, anche ora il progetto si rivelasse uno scam e dovessi perderlo, non mi fa assolutamente né caldo né freddo, continuerei a dormire la notte. Ma lo stesso 5% io non è che lo metto in un unico progetto, ma lo suddivido in una molteplicità di progetti. E questo perché? Perché sebbene non ho una statistica universale, ho una statistica relativamente parlando ai miei investimenti. Bene, posso dirti che 8 investimenti su 10 riguardo le private sale sono andati male. Per male che cosa intendo? Fra questi 8 ci saranno qualche progetto che ha direttamente scammato, quindi ho perso completamente il mio investimento iniziale, qualche progetto non è andato così come mi aspettavo, quindi comunque sia ho recuperato una parte, quindi non ho perso tutto il capitale, ma magari non ho guadagnato o sono andato più o meno in pari, mentre invece due progetti su 10 solitamente sono quelli che fanno la differenza. Talvolta possono essere dei ritorni corposi, talvolta meno. Ma come tale quindi io lo considero un unico investimento, non mi interessa tanto del singolo progetto, mi interessa semplicemente quindi vederli come investimento nella cartella pre-sale. Quindi in questa cartella ci considero tutto, quelli che non usciranno, quelli che invece mi faranno effettuare dei profit. Naturalmente bisogna fare un buon lavoro di due diligence, quindi di ricerca iniziale, di approfondimento al fine di ridurre il rischio e quindi non far diventare che questi progetti 9 su 10 sono addirittura 10 su 10 vadano male, altrimenti in quel caso ovviamente sarebbe tutta una perdita. Questo lavoro di due diligence bisogna farlo in diversi modi, vedere se il team esiste, se sono magari team conosciuti, come partecipare, eccetera, eccetera, ma più di tanto in ogni caso si può fare relativamente poco. Si possono vedere i vari canali social, si può chiedere informazioni magari a più esperti, ma in ogni caso non si avrà mai la certezza. Ma questo però ti consente di avere una probabilità maggiore e poi nient'altro è che basarsi su questo. Io spero amici di avervi chiarito il tutto e di come andrebbero visti a mio modo di vedere le pre-sale, qualsiasi esse siano. Quindi alla domanda conviene o no investire nel 2024-2025 nelle pre-sale, la mia risposta è sì, ma perché so quello che faccio e so che posso perdere completamente tutto. Tu che cosa ne pensi delle pre-sale? Hai mai partecipato? Parteciperai? Hai intenzione di approfondire? Scrivilo qua sotto nei commenti, vi sia trovato utile questi contenuti, fammelo capire con un bel pollicione. All'insù, al prossimo. Ciao ragazzi.